Mi è venuto in mente un personaggio che nella politica attuale sta facendo il bello e soprattutto il cattivo tempo. Chi Berlusconi? No, Beppe Grilletto. Oh, ma lo sai che io sono molto amico di Beppe Grillo? No, dai, sul serio. Non direi che... Ma sai che devo andare a Genova a presentare il libro? A Genova? Davvero? Momento pubblicità. A un V-Day? No, non penso. All'Aquario? No, 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 no. Ha organizzato una fase editrice che si chiama Abba Nero, ma non so altro. Vabbè. Non voglio neanche sapere altro. Benissimo. Ma neanche giorno... E su Grillo cosa mi dici? Ma Grillo sostanzialmente... Lo chiamiamo. Io ti dico... Guarda, è un po' difficile adesso contattarlo. Io lo sento fuori trasmissione. Tipo l'altro giorno lo chiamo perché c'era stato un po' il casino, sai no, solo questione dei giornalisti. Sì. Cioè dovrebbe... Strano perché questi giornalisti di solito vado a morire d'accordo. Eh no, infatti, infatti, infatti. Ma in realtà tu devi capire che Grillo... Adesso te lo spiego. Praticamente, cioè, io lo chiamo. Dico, ciao Beppe, come va? Insomma, ho sentito questa cosa dei giornalisti, ma... E lui non ti dice, ma chi cazzo sei? No, no, no. E lui mi fa, no, guarda, non me lo dire. Insomma, è una cosa incredibile. Cioè, ne sto veramente tentando tutte. Tutte le sto tentando per fargli svegliare fuori. Ma niente, non capiscono un cazzo. Cioè, vanno avanti e mi seguono a ruota. È incredibile. A un certo punto... Speriamo che non si fermi allora se non fermo a ruota. Mi hanno rotto i coglioni. Mi hanno rotto i coglioni perché ce l'hanno sempre con noi. Ed è vero anche, ti lo dico, è vero. Ci sono anche quelli, dai, se allusti sono sui coglioni. Mi sta veramente sui coglioni se allusti. Però, vabbè, c'è la libertà di informazione. E dai, insomma... E anche di disinformazione. E anche di disinformazione. È strano perché mi ha detto proprio così, come se tu fossi lì nell'elettro telefonata. Ah, sì? Sì, sì, è proprio disposto così. Non lo so, forse ha captato. Forse perché io sono casaleggio. Cioè, casaleggio. E insomma, lui allora dice, faccia lo psiconano. Gli dico, i giornalisti bisogna cacciarli dal Parlamento. E sono tutti d'accordo. E tutti applausi. E io che dico, ma che cazzo? Ma non è possibile? Cioè, faccio Berlusconi. Ragazzi, è Berlusconi. Parla come Berlusconi. Mi seguite. Non se ne può più. È incredibile. Siamo finiti. Siamo finiti. E insomma, è partito di nuovo. Perché lui in realtà non vorrebbe neanche fargli incazzato. Cioè, lui ci sta veramente provando. Nessuno lo capisce. Nessuno lo capisce.